Salve a tutti, siamo qui con Merish 3, il nuovo midiplayer di M-Line. In questo breve video vedremo come Merish 3 visualizza gli accordi sul display e sul televisore. Merish 3 è in grado di visualizzare gli accordi delle canzoni, diciamo che fino a qui non c'è nulla di particolare o di strano. La vera peculiarità sta nel fatto che gli accordi possono essere visualizzati sia come sigle che vediamo in questo momento, ma anche sotto forma di tablature per chitarra, ecco le vediamo unitamente alle sigle in basso, oppure con i simboli su una tastiera musicale. Ecco, vediamo gli accordi posizionati sulla tastiera musicale. Questa stessa visualizzazione come le altre può essere inviata al televisore. Vediamo ora le tablature per chitarra. ecco quindi che oltre al testo della canzone possiamo visualizzarne gli accordi in ogni forma possibile. Gli accordi possono essere visualizzati in sigle sia nella versione italiana ma anche nella persona internazionale.